è una delle torte al cioccolato più soffici di sempre una torta irresistibile che si scioglie in bocca resta morbida per giorni grazie al trucco dell'acqua calda ho utilizzato 3 uova a temperatura ambiente con 180 g di zucchero e ho iniziato a lavorare il composto anche semplicemente con una frusta a mano ho aggiunto 100 ml di olio di semi di arachide 180 ml di acqua calda la temperatura ideale dell'acqua dovrà oscillare tra i 38 e i 40 gradi unire gradualmente 250 g di farina per lavorare il dolce io utilizzo una frusta a mano ma va benissimo anche uno sbattitore elettrico per aromatizzare io ho scelto estratto di vaniglia e ho successivamente aggiunto il cacao amaro in polvere lavorare il tutto ancora alcuni minuti per amalgamare bene gli ingredienti e al termine aggiungere una bustina di lievito per dolci dopo qualche minuto l'impasto si presenterà liscio e senza grumi ed è il momento di versarlo in uno stampo precedentemente imburrato e infarinato per questa ricetta io ho scelto uno stampo da 23 cm di diametro al termine ho aggiunto anche delle gocce di cioccolato in superficie per la cottura forno statico preriscaldato a 180 gradi 40 minuti la torta al cioccolato è pronta, buonissima, emana un profumo irresistibile provate la ricetta e fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate trovate la ricetta descritta sul mio blog benesseregusto a presto a presto Grazie a tutti.